Buongiorno amici, allora capisco che lo sport nazionale ultimamente sia quello di gettare merda soprattutto sulla Juve però poi quando vediamo che si colpesta anche la propria dignità pur di dar contro la Juve io sinceramente mi rattristo non tanto per le fake che vengono date quanto per l'immoralità e il poco essere chiari il poco essere giornalisti, giornalisti poi ovviamente ultimamente ce ne sono davvero pochi il poco essere amante di se stesso perché anteporre una figura di merda pur di parlare male di una squadra, in questo caso la Juve, è da poveri uomini parlo della situazione Douglas Lewis che ieri sera era stata data per saltata da questo soggetto qui vicino a me tal Di Marzio, uno che generalmente quando fa calcio mercato durante i mesi estivi non ne prende una neanche proprio per sbaglio, il classico giornalista che spara nel mucchio 3.000 nomi fra quelle, quella cosa triste che fra quei 3.000 non ne prende neanche uno aveva dato per saltata completamente la trattativa da Douglas Lewis infatti poi ieri sera durante la live arrivavano tutti i boccaloni scrivendo è saltato Lewis, l'ha detto Di Marzio ovviamente grasse risate perché a parte delle conferme interne che abbiamo avuto noi che la trattativa si sarebbe chiusa comunque ogni volta che entrano le notizie di Sky e di Di Marzio diciamo che le risate sono sempre grasse ha ragione in questo caso Talpe Dullà che tra quelli che fanno calcio mercato sembra quello più accorto quello che ha davvero probabilmente le dritte giuste sul calcio mercato sembra quello che abbia più il polso di quello che succede intorno a lui ma al di là di questo al di là di avere informazioni o meno è una persona che se una cosa la deve dire la dice altrimenti sta zitto e non si espone mediaticamente solo per dare contro ad una squadra quello che invece fa Di Marzio che invece fa la gazzetta di Narnia quello che generalmente fa Sky Sport è triste, devo dire la verità, è triste però poi è giusto che questa gente sia sui social che da pedullà vengano perculati è il minimo sindacale è il minimo sindacale la notizia come sapete è dell'accordo raggiunto per quanto riguarda Douglas Lewis con l'insegrimento di Baranecea ecco e anche qui anche qui si scatena l'imponderabile non solo da parte degli antigi ventini ma anche da parte degli ventini stessi io sto leggendo cose impressionanti allora ve lo dico subito dovrebbe essere dovrebbe essere la chiusura del cerchio 20 milioni healing 15 milioni Baranecea 25 cash per un totale 60 milioni sto leggendo da parte dei dei farabrutti che secondo loro Baranecea non può valere 15 milioni va bene vale Valentin Carboni vale 40 come sta scrivendo la gazzetta come sta riportando anche Sky ne vale 40 va bene poi me lo venite a dire Casa Dei ne valeva 20 25 vabbè ok ma al di là di questo sto leggendo da parte di alcuni Juventini delle cose assurde cioè Baranecea non lo hanno calcolato di striscio ma proprio ma manco di striscio quando è andato in prestito ora di botto è come se avessimo inserito Modric nella trattativa per carità di Dio Baranecea è un bel prospetto ottimo giovane forse un po' lento dinamicamente un po' lento ottima visione di gioco ma se si vuole puntare ad una Juve più europea ad una Juve pronta anche tra virgolette a giocarsi lo scudetto di certo non puoi mettere il centrocampo in mano a Baranecea penso che queste siano valutazioni sotto ogni forma di dubbio precise da parte della dirigenza e da parte anche di Giuntoli no perché adesso è uscito lo sport nazionale da gran parte della tifosiera gioventina di dare contro a Giuntoli qualsiasi cosa faccia io continuo a ripeterlo continuo a ripeterlo io non vedevo tanta chiarezza sul mercato dai tempi di Moji io ve lo dico ve lo dico chiaramente ha dei paletti prefissati giunti in una testa dura vedrete che raggiungerà tutto quello che si è prefissato in testa costruirà la Juve che ha in testa poi ovviamente una volta costruita la sua Juve sarà passibile dopo di critica non critica a priori se no poi facciamo la fine di Di Marzio che dice cagate a priori solo per dar contro e non è bene fare questo perciò vi invito anche voi gioventini a seguire un po' meno di Di Marzio a prendere meno spunto da Di Marzio e a riflettere un po' più sulle cose se no fate la fine dei farabrotti pure voi ma guardate che Allegri è andato via non esiste più cioè riprendetevi riprendetevi in mano la vostra Juventinità se ce l'avete mai avuta se l'avete mai avuta la Juventinità in mano non è che adesso ogni cosa che fa Giuntoli è la fine poi ho sentito dire adesso McKennie cosa farà io lo lo manterrei ragazzi McKennie è un giocatore che con questa mossa si è completamente bruciato l'opportunità di rimanere alla Juve l'anno prossimo si troverà una soluzione anche per lui voi vi preoccupate sarà un ennesimo tesoretto da parte della Juve la vendita di McKennie porterà poco? pazienza porterà tanto bene la cosa certa è che dopo questa cosa è ovvio che McKennie l'anno prossimo non può mettere piede alla continanza è fuori ombra di dubbio è fuori ombra di dubbio siamo a vedere perché le offerte poi non mancavano al giocatore vediamo 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 anche questa cosa qui perciò mi raccomando questo è un periodo molto particolare molto particolare questo periodo perché si leggono 10.000 cazzate al secondo ripeto c'è il circo c'è un circo mediatico fatto apposta per fare audience e non per informare le persone sui movimenti di mercato io ve lo continuo a dire ve l'ho detto l'altra sera ve lo dico ogni anno attenzione a cosa si guarda e attenzione a cosa si dice poi ognuno è libero di vedere e di fare quello che vuole per credere a Dio io vi metto solo sull'allerta poi fate voi poi fate voi ci sono tanti modi per informarsi sul mercato sul web sicuramente quello degli sputatori di merda di Sky per me è l'ultimo ok detto questo ovviamente noi non vogliamo metterci in primis il mio canale non si vuole mettere come baluardo del calcio mercato anche perché voi sapete benissimo che fino adesso io live di calcio mercato ne ho fatta una barra due ma oltretutto abbiamo detto cose sapute di sapute cioè novità non ve ne abbiamo portate probabilmente novità ve ne porteremo se arriveranno da luglio in poi non mi lodo neanche perché non avendo fatto live di mercato non so di cosa possa lodarmi vi dico solo di stare attenti alle micchiate che girano giornali la gazzetta di Narnia soprattutto che l'altro giorno scriveva di problemi della Juve problemi su Douglas Lewis problemi addirittura legali su Hildiz ne inventano uno al giorno i problemi per quanto riguardava la cessione di Kaiorg che poi è rientrato tutto c'è sempre un problema sulla Juve ecco io vi invito come al solito ad evitare come la peste questi giornali e queste televisioni amici con questo è tutto vi ringrazio per aver seguito l'ennesimo video della mattina vi auguro una buona giornata iscrivetevi al canale like anche su TikTok curicino e descrizione fino alla fine forza Juve e abbasso le fake news ciao ragazzi ciao